Angelo Gregorio, è arrivata la prima vittoria in campionato, utile, molto utile per poter lavorare con serenità in questi giorni. Sì, assolutamente, è stata una gran bella vittoria, importante per come è venuta, forse ancora di più. Nonostante l'uomo in meno, le ultime mezz'ora siamo riusciti a chiudere il risultato. Quindi è stato da molto orgoglio, soprattutto in casa, ci voleva la prima in casa, è stato importante fare un buon risultato. Volendo guardare il perone dell'uovo, è mancato un po' di cinismo, si poteva chiudere anche prima la partita? Sì, sicuramente nel primo tempo il risultato di 1-0 forse era stato un po' ristretto. Abbiamo avuto diverse occasioni e potevamo sicuramente metterci già più dalla parte del sicuro nel primo tempo. Senti, due volte il Teramo gioca 20 minuti e più in 10 uomini. C'è da preoccuparsi per questo o c'è da cogliere di positivo che la squadra comunque non si scompone? Sì, è successo entrambe le settimane all'inizio del campionato. Forse può essere una buona pecca di un po' di gioventù o che qualche errore c'è stato. Comunque la squadra ha risposto molto bene e sicuramente bisogna prenderla come una cosa positiva. Senti, due gol lo scorso anno li hai fatti, di solito una volta o due volte timbri il cartellino, dobbiamo aspettare tanto? Sì, diciamo che l'anno scorso è andato anche tutto bene, di solito non sono un bomber assolutamente, anzi in fase offensiva devo migliorare ancora molto. Prossimo turno, gara esterna a Poggi Bonsi, tu non eri a Teramo l'anno scorso ma a Poggi Bonsi probabilmente aspettano questa partita dopo quello che è successo lo scorso anno. Sì, sì, sono molto bene, poi Poggi Bonsi un po' essendo stato a Ponte d'Era conosco un pochino l'ambiente, sicuramente è un campo difficile, è una bella squadra l'anno scorso, è una bella squadra anche quest'anno, quindi sarà una partita molto dura. Grazie a tutti.